Ciao a tutti ragazzi, sono Vlogitech e bentornati nel mio canale e finalmente siamo di nuovo qui con Attila Total War Più di 10 giorni senza, purtroppo non posso farci niente, il lavoro è lavoro Allora, avevamo lasciato l'ultima puntata a questa battaglia che se non erro avevo già vinto precedentemente Questa è la seconda volta che mi attaccano, sì E vediamo di ripetere l'esito dello scontro precedente che ci ha portato alla vittoria Così siamo usciti a difendere Ajax Farò la stessa tattica, creerò una barricata, difendo le entrate al centro città e vaffanculo Vediamo di velocizzare anche un po', giusto per non perdere più di 5-6 minuti solo su questa battaglia Che non mi va, vorrei un po' aumentare il percorso nella campagna Allora, loro attaccano da qua Mettiamo una barricata qui Perfetto, dai, sbarcare subito Il mio generale sta facendo il discorso Che cazzo è? non riesco a trovarlo questo era forse comunque 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 questi a difendere qui questi li portiamo anche qui sopra intanto vediamo spostiamo questi qua non ci sono mai hanno cavalleria loro 80 cavalieri velocizziamo un attimo vediamo un po' come si rispondono loro adesso ok se non ero loro possono buttare giù le barricate quindi facciamo una cosa del genere cavalleria qua occhio che arrivano vediamo cosa fanno ci provano anche voi veloci 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 dobbiamo massacrare la cavalleria assolutamente poi loro hanno dei frombolieri tarocchi schermagliatori ok come sono messi qui ne stanno perdendo un po' in teoria siamo in vantaggio noi vediamo si dai 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 spingere spingere ok ok cavalleria è questa leggera invece questi sono schermagliatori medi quindi è troppo rischioso contro di loro potrei andare molto leggeri quelli li massacrerei ok com'è qua 56 vai spingere spingere che li stiamo rimanendo indietro dai 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 velocitiamo un attimo ok questi cosa vogliono fare un cazzo vi porto anche loro qui dai la cavalleria ormai è distrutta ci sono le picche germaniche vediamo un po' se ne stanno ammassando tutti in questo punto ecco dai spingere velocizziamo vediamo un po' ok la cavalleria si ritira ora tocca a questi le picche sono in rotta perfetto si rifiuta di accettare la sconfitta ha raggruppato le sue unità ci vado a 7 ok abbiamo ancora un po' perfetto io direi di fare una cosa del genere che giro fa? mmmm no ascolta scendi di qua poi vai di qua poi teniamo premuto shift facciamo così così e così dai veloci ok stiamo perdendo unità cos'è questo? tessuzione difensiva dai massacrare subito questi che cazzo vogliono fare? un cazzo se la mia cavalleria si muovesse un po' ok ok stanno arrivando perfetto hanno qualche abilità? no niente eh le guardie palatine qua non scherzano mica tranquilli arriva un po' di cavalleria adesso facciamo queste merdine dai perfetto chiamiamo anche le mie unità qua veloci iniziamo ok ok si stanno ritirando perfetto dai che è andata mi segui il generale mi segui il generale li voglio massacrare ad uno ad uno così che non possono più ricomporre il loro esercito non ho perso neanche un cavaliere buono dai 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 cazzo dai perfetto abbiamo ucciso il loro generale questi sono rimasti in 5 non mi causano problemi qua sono in 10 fa un culo va facciamo una roba in genere va quanti sono ancora? uno perfetto massacchiamo questi dai 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 non voglio che sopravviva nessuno così non possono più riattaccarli perfetto ok voglio tutti contro di loro veloci però veloci veloci questi sono impallati qui eh veloci e veloci e veloci dai cazzo dai che li prendiamo su due fuochi qua non potevano passare qua? no ok andiamo a chiamare anche la cavalleria e ritorniamo un attimo a velocità in game normalissima qua spacchiamo tutto distruggiamo i campi guarda che roba i cessi i cessi non crollano ok prima unità in arrivo vai massacro 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 cavalleria sta arrivando queste stanno arrivando dai non hanno speranza si facciamo come un panino e via adios anche questi non voglio che sopravviva nessuno quindi 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 prima di fare termine la battaglia direi di mandarli a morire tutti 21 20 19 18 16 15 17 ci siamo quasi dai che è finita dai che è finita cazzo 10 minuti solo questa battaglia porca miseria più velocizzandola perfetto assedio quale assedio ho sbloccato anche l'obiettivo ho sterminato il nemico fino all'ultimo uomo 0 6 sono rimasti perchè si sono ritirati massimino varo varo rendimi le mie legioni ma morite la corsica non si farà conquistare dai ribelli integrità meno 3 ma si reintegriamo più 2% oh 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 cazzo mille contro 560 loro che unità hanno? oh oh un onagro poi questi sono contadini che posso sterminare solo con la cavalleria praticamente eh niente dobbiamo difenderci proviamo ci proviamo questo video sarà solo battaglie appio pacilo opacilo contro decimo crispo abbiamo anche una mini flotta di guarnigione con 64 uomini ok la tattica sarà sempre quella di barricarsi barricarsi nel centro città ok allora oh loro attaccano da la ho una barricata da costruire non posso metterla qua merda però posso metterla qui il che non mi dispiace allora il centro città è quello perché state così lontani mettiamoli qua un attimo attacchete questi li faccio sbarcare allora in generale io posso già bloccarli qui in questa gola qui non passano quindi faremo una cosa del genere e potrebbero passare di qua e quindi mettiamo questa unità di qua la cavalleria la tengo un attimo qui iniziamo la battaglia facciamo scendere subito questa unità veloce 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 il nemico è stato avvistato dai cazzo girati girati che sta arrivando la cavalleria merda ok ok a voi vi mando qui veloce però veloce 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 questa cos'è galleria media d'assalto cazzo ok ok assaltano qui succede difensiva perfetto l'ho fatto in tempo allora richiamiamo le unità vediamo di attaccarli da dietro veloce aumenta velocità questi cosa sono eeeh merdine dai cavalleria spostarmi oh no ho visto che stavano cedendo al passo dai cazzo veloci veloci dai veloci 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 attaccare attaccare cavalleria distruggere qui dai cazzo veloci come non detto qua mi sa che non attacca nessuno quindi portiamo indietro la nostra unità si si dai massacriamo non deve rimanere nessuno di queste merdine ok cavalleria sterminata ecco occhio perchè ne hanno ancora un po' eh stucce di difensiva spostali 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 in giù in giù in giù ok cavalleria devo preservare la cavalleria via 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 ok non voglio perdere troppi cavalieri dai cazzo portiamo questa unità qui ok ho perso tre cavalieri in croce buono 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 se buono cazzo aspetta portiamo le unità qua 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 e poi a distruggere questi dai veloci sta un po' laggando cavalleria leggera vabbè questi li sterminano come formichine ok rispostiamo i nostri esploratori qui ecco valeria per favore se fate una cosa più rapida destruzione difensiva cavallo solitario frecce in arrivo oh hanno ucciso il cavallo no dai 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 che la vinciamo anche questa velocizziamo ok ok adesso guardia palatine dai veloci cazzo perfetto questi li abbiamo andati in rotta voi continuate a inseguirli ok facciamo una cosa del genere adesso li circondiamo non hanno speranza voglio la morte la morte che si scaglia contro questi arcieri il nemico ha radunato le sue unità ma si ma che cazzo volete fare dai siamo lo squadrone della morte per roba per roba yahoo si ritirano si ritirano dai non hanno speranze ok ok c'è l'inizio dello sterminio uh gli onagri che stanno mirando la cavalleria perfetto anzi attaccare le spalle alle spalle 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 serrare i ranghi serrare i ranghi serrare i ranghi serrare i ranghi quanti sono rimasti? 66 dai 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 velocizzare 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 no ok velocizziamo dai 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 sono in rotta totale andiamo a distruggere queste che hanno rotto il cazzo ma in realtà non è rimasto uno 19 sterminiamo il loro generale nemico che è questo la nostra cavalleria ha sterminato qua ora mandiamola qui stanno puntando verso chi? ok puntano di là aprire i ranghi per evitare le frecce e una volta che li prendiamo chiudere perfetto vediamo un po' torniamo in live non hanno speranze ne hanno già perso la metà dei uomini in 10 secondi vediamo un po' se ho qualche abilità qualcosa si spingere dai 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 è rimasto il loro comandante qua questi li voglio sterminare fino all'ultimo rivelocizziamo quante ce n'è? ok poche dai via andiamo dal decimo crismo fortine però queste guardie palatine ecco ecco va in rotta in rotta non voglio terminare perché voglio sterminarlo velocizza tutti contro di lui tutti contro di lui 33 32 31 25 20 15 13 non hanno speranze dai andate 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 guarda questo la grande fuga oddio aspetta questa voglio vedere in ralenti stanco morto forse era più onorevole se ti suicidavi termina la battaglia yes vinto abbiamo difeso un altro nostro avamposto romano nei confini germanici o della gallia gallia regione del belgio penso buono due battaglie vinte e dai rapido si utilizziamo per integrarmi e che palle tutto un assedio un assalto un casino chi cazzo sono questi ribelli ispanici ah siamo in spagna qui oh questa potrebbe essere un'altra battaglia interessante vediamo se mmm sortita no perchè loro hanno un vantaggio numerico più cavalleria anche vediamo un po' non ho voglia di giocarmi anche questo andrei a perdere altri 10 minuti proviamo a fare ok una battaglia protettiva vediamo se riusciamo a vincere uh vittoria pirica perfetto 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 adesso basta però oh meno male ribellione in africa si 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 allora oh oh mio dio quanta roba no no guarda roba allora cos'è sta roba impedimenti politici allora decreta meno 15 dimenticatene meno 4 decreta ok allora è successo un casino ribellione in tutto l'universo rapporti battaglia ok incursioni morte in battaglia oh mio dio quanta roba quanta roba carestie cartaginese edito emanato ok allora andiamo un attimo qui vediamo un po' la felicità è in ribasso mentre qui è anche abbastanza in rialto in certi punti è rialto in certi punti è ribasso eh vediamola nella mappa quella panoramica allora ordine pubblico una merda totale mi salvo giusto in italia ma allora vediamo un po' cosa posso fare allora nei video sotto il video precedente ho letto qualche commento in cui mi consigliavate di non abbandonare le città perché causa eh una diminuzione dell'ordine pubblico però ragazzi se io non abbandono queste cazzo di città intanto se me le conquistano gli avversari lascio in mano loro già territori avanzati e e non va bene inoltre io non ho cioè non ho la possibilità di non ho unità per controllare tutte queste queste zone e secondo il mio parere l'unica opzione è appunto quella di abbandonare le città inutili che non mi portano soldi niente che poi riconquisterò tranquillamente ad esempio qui questa cos'è? la capitale della regione? no qui ho il legname vedi? quindi no mentre a cesarea non ho un cazzo però vedi la felicità è in aumento la felicità è in aumento vediamo qui anche andiamo avanti andiamo avanti ok sembra tutto in aumento vabbè qui l'hanno desolato ok qua siamo messi male 1033 meno 33 qua ho un 20 quindi il prossimo futuro non servirà ancora devo sistemare qui allora londra felicità costa 3000 lo faccio ho bisogno assolutamente di felicità certo che facendo così ho già perso un bel po' di soldi costa una barca di roba vediamo se io posso fare con mille e quattrocento qualcosa non posso fare niente prossimo turno ma rivediamo meno 130 di cibo ai 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 comunque questo mio esercito può difendermi abbastanza in maniera in maniera efficace dall'incursione qui degli inglesi allora potrei abbandonare anche qui tanto non c'ho un cazzo abbandona rimaniamo con qua che c'ho il legname qui c'ho questa roba qua ehm meno 35 meno 39 9 allora qua no siamo messi molto male qua ho abbandonato tutto vediamo un attimo qua in Africa vediamo un po' tanto qui ad esempio ma com'eres potrei anche abbandonarla la abbandoniamo direi di abbandonare anche l'eptis magna a sto punto anche se è la capitale della regione non mi va mica però però a sabrata abbiamo tinture ho un esercito io qua si cartagine potrei spostarmi in a ribelli africani no niente dobbiamo rimanere per forza qui per forza qui uh questa è una città importante abbiamo ferro vabbè questi qui non dovrebbero causare i miei problemi Cesarea io quasi quasi no vediamo un po' palma non serve un cazzo via fuori dalle balle poi vediamo un po' qui questo non serve a niente qua invece si qua non serve a niente io distruggo con mezza roba poi vedremo insomma se sarà la tattica giusta o no oro aspetta siamo più 20 aspetta qui la felicità aumenta no quindi annulla annulla l'abbandono e anche qui la felicità è alta mentre qui qui cala dovrei creare un esercito ma non ho possibilità di farlo allora vediamo un po' la tecnologia cosa possiamo fare ho qualcosa che aumenta la felicità più avanti quindi un cacciops un cacciops sblocca arrollamento le azione sostituisce corti libuna libuna ok qua cosa fa mattiari questo non serve male 10% in meno per unità di fanteria corpo a corpo però potrei anche fare questa roba qui ah cazzo questo costa soldi allora facciamo prima qui ragazzi è tatticissima questa campagna veramente difficile non pensavo qua cos'è ribelli bah niente di che è sta merda però di vandali ho un brutto presentimento posso reclutare unità ho un brutto presentimento guarda quanti guarda quanti visigoti vandali vandali male 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 malissimo io sposto le mie unità in Italia mi sa che dovrò creare ripartire dall'Italia abbandonare un bel po' di territori qui dobbiamo scendere io scenderei qui mentre con questi augusta tre euro non vorrei tenerla però perché è un bel centro molto importante che si sviluppa molte strade molti posti quindi potrebbe essere un punto fondamentale stessa cosa per londra qui dobbiamo mantenerla abbiamo un mega esercito possiamo farcela qui ho altre unità per caso una qui mi sembra si eserciti ribelli proviamo ad attaccarli proviamo ad attaccarli beh questa la sarà vinciamo perfetto ok abbiamo eliminato un esercito ok scendiamo intanto qua va perché adesso è carato tutto qua ok devo cercare di stare attento a quell'esercito lì allora abbiamo un'abilità due abilità da dare allora vediamo un po' ricchezza ricchezza integrità si ordine pubblico fondamentale ora come ora vediamo se ho altre abilità da dare in giro no non credo vediamo un po' la diplomazia se posso fare qualcosa qualche commercio un cazzo i Mauri niente affidità onesta 18 anni giovanissimo io non ho soldi il prossimo turno mi entreranno questi 15.900 di spese eh e che ho le la tassazione alta si abbasso vado a meno 500 mi tocca per forza lasciare così questa la sto abbandonando si perché non non vale la pena Ajax l'ho difeso due volte non vorrei riuscire a tenerla se possibile ok niente non posso fare altro passiamo il turno a un governatore allora mettiamo un governatore nella Venezia ok un editto ok ok emaniamo un editto felicità mi serve perfetto ottimo i governatori sono fondamentali perché mi portano un po' di benefici come puoi vedere torniamo un attimo il prossimo passo è assegnare un governatore nella Liguria in modo da avere tutta l'Italia qua e anche qui casomai potrei eliminare no ma qua mi serve non ho nessun altro che può far prendere una carica niente vabbè non importa allora passiamo il turno vediamo un po' cosa succede adesso spero di non venire attaccato veramente ecco neanche fatto il tempo a dirlo pezzi di merda di ostrogoti bastardi persa questa regione è persa ecco tagliato le canne della gola meno uno ok i vandali bisicotri non hanno fatto niente meno male impero trovando un riente non puoi mandarmi degli aiuti qualche unità qualcosa non lo so ai 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 i budini e che palle che palle che palle ribelli ispanici facciamo così intanto so che la perdo però si sa mai vinto oh ancora oh mio fucking god ribelli africani eh vabbè non ho assolutamente possibilità leptis magna non ho possibilità alcuna ecco ecco perso leptis magna da sti ribelli di merda e ancora oh ma c'erano su sti spagnoli dal cazzo eh proviamo a difenderci così ma dai ma come fai a farti colpire così ah e vabbè ma dillo allora che devo perdere tutte questa in teoria dovrei dovrei vincerla in teoria eh ma dai ma dai ma sei una merda come quell'altro ma vaffanculo ma va a cagare va eh dai perdiamole tutte sì sì dai vaffanculo dovevo dare fuoco a tutto a tutto dovevo dare fuoco dai qualcun altro ma ma vaffanculo va no sta 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 campagna è impossibile guarda che roba ho perso ho perso l'africa ho perso la spagna intera fra poco no 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 appartiene gli spagnoli adesso qui vaffanculo io mi ritiro cartagine toh giuro che giuro che brucio tutto tutto via bruciare terra bruciata ecco no no questa col cazzo che ve la lascio vaffanculo non vi prendete le riserve di ferro questi sono pochi difendibile andiamo un attimo di qua vediamo un po' com'è ci ho perso tutto praticamente bah abbandoniamo anche cesarea non ha senso ah abbiamo dei punti abilità ok devo per forza cercare di attaccare questi ok si ritirano e andiamo a difendere questa città adesso e reclutiamo e reclutiamo un paio di unità comunque vedi che abbandonano le città ho aumentato un po' mi fa un culo all'abbandono allora calma e sangue freddo calma e sangue freddo calma e sangue freddo guarda io ho paura di sta merda adesso sicuro che mi attaccano sicuro guarda posso assumere i mercenari? niente questi sono cattivi? no qui abbiamo delle abilità da dare no io scenderei a Mediolanum anche qui abbiamo delle abilità e con cui si scende a Genoa e gli do delle abilità anche qua ok perchè città sono imbarcati? no ok ok sto riportando tutte le mie unità a difendere l'Italia ho ancora questo esercito qui voglio difendere a sud dentro questa zona e questo mi servirà per difendere la Spagna 1,2,3,4 questo per ora lo lascio qui aspetta abbiamo delle abilità anche qua ok e questo potremmo attaccarli vediamo un po' ok si ritirano ok torniamocene a Augusto e Treverono qui invece come va? abilità uh buonissimo ordine pubblico ordine pubblico allora facciamo ordine pubblico e questo e attacchiamo ste merde col cazzo che scappate voi mi massacro adesso via fuori dai coglioni ok ritorno a Londra perfetto perfetto ho 3.000 soldi quindi cosa posso fare? aumentare la felicità in qualche modo ordine pubblico 3 ricchezza ok ricchezza la chiesa anche non sarebbe male? eeeh 2% no vabbè io farei meno 200 costo di mantenimento però vedo più 3 lo del pubblico e più 3 lo del cristianesimo mentre qui più ricchezza no facciamo una chiesa va poi con 1.800 potrei fare niente niente qui si però non ho non ho i fondi sufficienti ah no non ho più fondi cazzo vabbè ok bene ragazzi allora 42 minuti di video eeeh purtroppo la situazione è molto complicata questa campagna pur pur che la sto giocando a facile è veramente difficile eeeh spero il video vi sia piaciuto spero vi abbia fatto piacere che sono tornato dopo più di 10 giorni eeeh aspetta che qua c'è qualcosina eeeh niente allora vi saluto spero vi sia piaciuto e ci becchiamo prossimamente con attila total war speriamo di riuscire a migliorare un po' la situazione perchè qua la farsi ingrossa ciao a tutti dal vostro il logitech ciao a tutti dal vostro il logitech